buongiorno ragazzuoli io mi sono appena svegliato mattina presso sono sgattaiolato fuori di casa ho lasciato tutta la mia famiglia che ronfa il perché lo sapete ragazzi perché si va a volare adesso ci andiamo a prendere bel caffettino il caffè italiano la mattina è lo step iniziale per il ripping senza il caffè italiano nelle vene il flippy floppy non è la stessa cosa si ragazzi tutto questo grigio che vedete intorno a me è il solito tempo di merda ragazzi siamo arrivati al punto e qua c'è sta un sacco di gente c'è sta un sacco di gente oh guarda che questo è il punto mio che state a fare qui via via chi è sta gente ragazzi che c'è stata a fare qua a voi questa è roba mia via via sei tu il proprietario qua senti ma se può entrare avete suonato di oggi entrare o non entrare entriamo 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 con le macchine proprio da grandi boss mafiosi è brutta aspetta intanto riprendo adesso anche le targhe così almeno se li devo fottere li fotto io ho portato solamente qualche quad venite venite a parte la spazzatura vabbè che devo buttare questo è un source one questo l'ho ricostruito perché l'ho distrutto in uno dei miei video un camaleon da combattimento questo è praticamente quello che ha visto tutti i bando di roma e l'ho ricostruito perché l'ho distrutto ed è un rotor riot CL1 poi qua c'è un altro nuovo ragazzi questo l'ho fatto ieri eh qua si è vergine infatti non so se me lo porto che è sempre un tbs source one che non costano niente poi ci abbiamo la spazzatura e il mcdonald di ieri a questo qua questo bisogna aprirlo ragazzi questo ci serve oggi questo tra l'altro mi sa che viene proprio da napoli oggi ragazzi voleremo con questo attaccato al laccio della taranis attaccato al mio laccio taranis c'ho il corno porta fortuna ragazzi qui dietro di me è comparso qualcuno che non vedevo da tempo siamo persone educati noi i freestylers sono educati che la merda sia con tutti noi stiamo andando in un posto nuovo non ho mai visto sì il tempo è una merda ma allora perché porti gli occhiali perché non ho dormito c'ho degli occhiali assurde ragazzi ho dovuto caricare batteria il posto inizia a diventare pauroso perché di la voce che qui divorino i freestyler ma che ossa umane o sei pronto per fare questa fine bello il cappelletto stile mutanda questo stile mutanda ne ha male io dovrei entrare da qui no 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 ragazzi questo non si deve portare nel bando cos'è questo profumo cos'è questo profumo buchi madonna guarda qua oh metto i brividi sto posto ragazzi mi dovete trovare come si arriva al piano di sopra i miei bambini piccolini una bellissima elegante scala porta alla piscina quindi praticamente grazie a questa piscina a questo punto è fottuto vabbè qui i botti si spregano oggi cioè dallarci pure le cinture di sicurezza vuoi distruggere sto posto nessuno di voi lo vedo convinto di volare ma proprio nessuno e questo è grave ragazzi buona l'idea Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ci stanno rovi? Ci stanno rovi di rossi buchi? Ci stava una grata! Ci stava qualcosa Come è andata la rippata? Bucato Bucato? Rotto No comment Tu stai a posto? Tranquillo, tutto a posto La giornata è finita Andate in pace Grazie a tutti 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 Grazie a tutti